Ti presento la seconda edizione di La Nuova Biologia Punto Blu, il corso di biologia di Sadava, Hillis, Heller e Aker. Troverai tanti spunti per arricchire le lezioni con la tua classe. La parola chiave è Active Learning, un metodo di insegnamento che incoraggia gli studenti a essere attivi durante il lavoro in classe e a mettere in pratica ciò che imparano. Sono attività Active Learning, il problem solving, il dibattito, i lavori di gruppo, le analisi di casi di studio, gli esperimenti in laboratorio, ma anche ragionare insieme su una figura, creare mappe riassuntive e formulare ipotesi. Attività che coinvolgono gli studenti e li aiutano a imparare meglio. L'etichetta gialla Active Learning evidenzia tutte le attività di questo tipo. Per esempio l'attività Dati in Agenda, che propone un compito di realtà e un video su argomenti di attualità. Così gli studenti possono riflettere insieme su temi come il consumo di acqua in bottiglia, l'estinzione delle specie viventi e il fumo tra gli adolescenti. Oppure gli esercizi Dimmmi la tua, che stimolano un dibattito su temi discussi, come la dieta vegana, i vaccini o il razzismo. I temi dell'Active Learning si intrecciano anche con quelli della sostenibilità e dell'educazione ambientale. Grazie alle attività Dati in Agenda e alle lezioni su biodiversità, salute e sostenibilità, puoi collegare lo studio della biologia agli obiettivi dell'Agenda 2030. Inoltre trovi ben 190 video accessibili con l'app Guarda o attraverso l'ebook. Video da proiettare durante la lezione, oppure da assegnare a casa per poi discuterne in classe, con un metodo, ancora una volta, Active Learning. In ogni capitolo trovi anche 20 esercizi su ZTE, una mappa concettuale interattiva, una lezione in PowerPoint in italiano e in inglese. Sadava alla nuovabiologia.blue per studiare la biologia in modo aggiornato, coinvolgente, attivo.